Avete già sentito parlare della storia di Jonathan Galindo, questo misterioso e inquietante personaggio che indurrebbe gli adolescenti all'autolesionismo e addirittura al suicidio. Ma che cosa c'è di vero? Ne parliamo oggi insieme. Bentrovati naviganti, oggi parliamo di una storia ai limiti dell'horror, è una storia che vede un personaggio inquietante, lo vedete dalle foto, chiamato Jonathan Galindo. Questo è una sorta di Pippo, il personaggio Disney, deformato, un uomo con questa maschera insomma, che indurrebbe, questo sarebbe almeno il titolo di vari giornali, tra cui per esempio il resto del Carlino, indurrebbe dei ragazzi a fare un folle gioco, il folle gioco consiste nell'autolesionismo e in questo articolo si segnala che ci sono denunce da parte di genitori che raccontano appunto di questi contatti arrivati tramite il web. In un commento che leggiamo sempre in questo articolo del resto di Carlino c'è scritto sembra la foto di un pagliaccio qualsiasi, commenta un genitore iesino, in realtà si tratta della foto di un profilo Facebook, anzi di più profili che coinvolgono ragazzini in un gioco che porta all'autolesionismo, un verme o un gruppo di vermi da schiacciare prima che facciano del male, voglio avvertire tutti di segnalare eventuali contatti con i vostri figli. E poi sempre nello stesso articolo c'è un secondo messaggio. Ho fatto un giro nei diversi profili che questo galindo ha in altri paesi, aggiunge un altro genitore, e ho trovato messaggi da parte di ragazzini che lo invitano, che chiedono di giocare. In molti profili questo galindo ha l'amicizia di tantissimi adolescenti che sembrano quasi bambini. Credo che questo insetto malefico farà molti danni ed è da schiacciare subito. Difficile dire ai genitori di non dare il telefono ai figli, oggi purtroppo è la società che lo impone. Allora che cosa notiamo in questo articolo se lo andiamo a leggere? Notiamo che non c'è un singolo riferimento autentico, concreto, reale a qualcosa che sta veramente accadendo. Chi sono questi genitori intervistati per esempio? Dove hanno fatto queste ricerche? Quando hanno fatto queste denunce? Non esiste nessuna denuncia alla polizia. Addirittura la polizia postale in qualche modo all'inizio era stata forse confusa da messaggi di questo tipo o da articoli di questo tipo e aveva pubblicato una segnalazione che poi ha ritirato immediatamente quando si è accorta che non c'era proprio nulla di quello che veniva segnalato. Perché effettivamente che cosa sta succedendo qui? Non sta succedendo nulla. È un gioco creepypasta come si dice, cioè una storia horror che dilaga sul web. nata probabilmente in America Latina come ricostruisce bene Sofia Lincos su Query Online. E sembra che a rilanciare questa bufala sia stato in particolare un influencer messicano che si chiama Carlos Neym e che ha circa 1.700.000 followers su Instagram. Ebbene questo personaggio, Neym, che racconta nei suoi post insomma di vivere esperienze paranormali che continuamente, guarda caso l'unico al mondo a cui succedono queste cose che se fossero vere sarebbe studiato davvero dalle università di tutto il mondo ma è evidente che non sono cose vere, racconta di essere in qualche modo stato aggredito quasi da questo Jonathan Galindo. C'è un suo video dove racconta appunto di avere trovato questo pippo umano che di notte in casa sua, perché aveva sentito degli strani rumori e poi insomma ha scoperto strani aggeggi, insomma chiaramente si tratta di una bufala ma sono bufale che servono a diventare virali, quindi è stata rilanciata tantissime volte e ha contribuito ad aumentare insomma il panico intorno a questo personaggio. E poi come sempre succede con queste storie creepypasta, questi horror che piacciono tanto insomma ai ragazzi sul web c'è chi inizia a usare gli stessi nomi, a farli circolare, per spaventare gli amici, per divertirsi alle spalle degli altri era successo con Blue Whale, vi ricorderete un'altra bufala di questo tipo nata su terrori inesistenti ma che era stata amplificata anche dalla televisione o come la figura di Momo, altra figura horror, in questo caso una donna con i capelli neri, gli occhi enormi, la bocca deforme che ancora una volta rappresentava il classico cattivo del web cioè il personaggio malevolo che vuole il male dei giovani e cui bisogna stare lontani. È evidente che qualcuno per caso, per volontà, coglie dei meccanismi che hanno una forte leva sul pubblico e soprattutto non tanto sui giovani che magari si divertono a rilanciarle e sono molto più sgamati di quello che pensano i genitori ma proprio sugli adulti che, terrorizzati dal circolare di queste immagini e si lasciano in qualche modo convincere che davvero ci sia un tentativo di indurre i ragazzi a farsi del male, a suicidarsi rilanciano questi personaggi e queste storie regalando loro una visibilità enorme, facendo pubblicità e quindi aumentando, amplificando quelle che sono semplicemente delle leggende metropolitane perché questo è un'evoluzione delle leggende metropolitane che adesso attraversa il web una volta le leggende si raccontavano per voce e si basavano semplicemente su racconti che non avevano prove concrete adesso qualcuno pesca ogni tanto un'immagine inquietante, una foto può essere un fantasma, può essere un adulto con una maschera può essere una foto deformata con photoshop insomma, qualunque cosa di spaventoso e poi ci costruisce sopra una storia horror di serie B insomma, che non reggerebbe un film, non reggerebbe nulla di veramente artistico ma che è sufficiente a scatenare le paure di certi genitori insomma, il meccanismo delle leggende metropolitane che sono uno strumento, che sono un modo con cui le persone cercano di dare un senso alla realtà cercano di dare un significato a qualcosa che per loro non è comprensibile in questo caso è possibile che molte persone che ancora hanno poca familiarità con i social, con il web e che prendono spunto da reali timori, reali paure che sono diffuse nella società a buona ragione come quelle che riguardano il fatto di poter incontrare qualche sconosciuto malintenzionato il problema della pedofilia sono problemi autentici che però, ecco, vengono trasferiti in qualche modo anche nel web dove ovviamente sono presenti ma ricostruiti, ma rirrappresentati secondo una storia, in questo caso horror che ha una presa immediata sulle paure come non è possibile riconoscere a prima vista la persona, l'adulto pericoloso perché magari sembra davvero una persona qualunque molto spesso magari è addirittura un familiare ma se tu vedi un mostro come quello è chiaro che lo riconosci immediatamente quindi è molto più facile starne alla larga il fatto di riprendere dei pericoli autentici di travisarli completamente di costruirci sopra una storia che dia la possibilità di indicare un colpevole preciso è la stessa cosa che troviamo all'interno di tante teorie del complotto prendiamo la teoria del complotto di QAnon che anche lì, ancora una volta, si prende spunto da un problema, un grande problema reale che è quello della pedofilia e in particolare del traffico minorile che purtroppo esiste contro il quale combattono le polizie combattono le forze che indagano in tutto il mondo ma siccome non è così facile abbattere questo squallido e questo orribile commercio di bambini allora per tante persone l'inquietudine che si genera è tale che diventa necessario immaginare un nemico che sia facilmente identificabile allora queste persone si sono costruite questa favola di Q che sarebbe questo agente segreto che aiuta il presidente Trump a combattere la rete globale della pedofilia in gran segreto perché chiaramente perché in gran segreto? perché non c'è nessuna denuncia non c'è nessuna indagine l'amministrazione Trump non sta facendo assolutamente niente su questo ma deve essere una battaglia segreta e questo Q è una figura così leggendaria che in realtà tiene informati i cittadini per bene contro quello che si sta facendo è una credenza che come dicevamo serve a raffigurare il male a dargli una connotazione ben precisa perché i vari Epstein, Jeffrey Epstein questo miliardario pedofilo che è stato arrestato, condannato poi si è suicidato in carcere non si sa bene in quali circostanze ma che era amico di molti potenti da Bill Clinton allo stesso Trump e beh, questi personaggi non sono facili da individuare se non a posteriori se non dopo che una indagine di polizia li ha incastrati e li ha portati in galera è allora meglio diffidare un po' di tutti secondo costoro piuttosto che rischiare di incontrarne qualcuno e immaginare che ci sia qualcuno che sta davvero combattendo per liberarci allora, tutte queste storie tutte queste leggende e Jonathan Galindo è semplicemente l'ultima variante di come abbiamo visto di un terrore, di una paura concreta nascono per questo motivo bene, il rischio qual è però di tutte queste storie? che qualcuno inizi a emularle a copiarle a volerle trasformare in realtà e nel caso di Blue Whale c'è per esempio un processo in corso che riguarda proprio una vicenda di emulazione del fenomeno che in realtà era solamente una leggenda era solamente immaginario un'ultima nota per dire da dove nasce in particolare questa immagine questo pippo trasformato che non è appunto lo Slenderman del 2020 ma è un artista un videomaker americano che sui social si identifica come Dusky Sam Sammy Katnipnick o Samuel Canini che in realtà appunto ha preso le distanze da tutte queste cose lui dice io mi maschero mi diverto faccio queste figure questi personaggi perché fa parte della mia arte ha scritto proprio un messaggio in cui dice questa follia sembra stia terrorizzando tantissimi ragazzi facilmente impressionabili ovviamente ripeteva pure lui quello che aveva sentito dire ma poi spiegava quelle foto quei video sono miei li ho fatti nel 2012 2013 7-8 anni fa e non hanno niente a che vedere con tutta questa bufala che cosa fare dunque quando si sentono raccontare queste storie se vi divertono ascoltatele e fatevi una risata se invece pensate che siano un autentico problema un'autentica minaccia pensateci due volte provate ad approfondire non fate come certi giornalisti come abbiamo visto all'inizio che semplicemente alimentano una terrore per qualcosa di inesistente vedete no mettendo dichiarazioni tra virgolette senza però attribuirle a nessuno e che quindi probabilmente sono anche inventate ma che e che sono anche molto simili vedete in entrambi i casi si parlava di schiacciare degli insetti difficile che due genitori presi a caso dicano esattamente la stessa cosa ma questo non è fare giornalismo questo è alimentare inutilmente temi sensazionalistici solo per aumentare un po' i click al sito per vedere se portano un po' di pubblicità questo modo di lavorare questo modo di comportarsi da parte di chi dovrebbe invece avere una deontologia professionale cioè i giornalisti non fa altro che sminuire la credibilità dell'istituzione giornalistica dei giornali stessi che continueranno a perdere copie e lettori finché continueranno a dare questa immagine di sé cioè quella di gente superficiale cinica che pubblica notizie false al semplice scopo di approfittare della credulità degli altri e chiaramente chiunque abbia a cuore la veridicità dei fatti il distinguere i fatti dalle fantasie non può che essere molto preoccupato io vi ringrazio per essere stati con me anche oggi come vedete il materiale non ci manca mai per parlare di buffa o per parlare di fandoni perché tutti tutti i giorni nasce qualcosa di nuovo anche se come come si è visto in questa storia sono sempre le stesse cose che più o meno circolano cambiandosi il vestito ed è per questo che io ci torno spesso su questi argomenti perché bisogna abituarsi a riconoscerle queste cose a non dare più spazio a non dare più visibilità a certe idee a certe fandoni perché stiamo solamente regalando pubblicità a personaggi che ne approfittano e a appunto pseudotestate giornalistiche che approfittano di questa curiosità spesso morbosa e del bisogno di sensazionalismo che hanno tanti per alzare gli indici di ascolto si direbbe o comunque i click sulle proprie pagine non aiutiamoli abituiamoci a pensare con la nostra testa e a fare delle domande sempre più precise chiedendo le fonti chiedendo da dove nasca chiedendo le prove soprattutto di ciò che si afferma e vedremo che tutte queste cose una alla volta furia di fare queste domande puntuali cosa fanno si affievoliscono come un palloncino sgonfio a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti